ben ritrovati sul mio canale di cucina siamo già arrivati a natale eccoci un altro anno è passato insieme a voi grazie a tutti coloro che si sono iscritti ultimamente e a chi mi segue da sempre mi raccomando una cosa se mi volete fare un regalo scrivete le ricette che vorreste vedere realizzate e io mi cimenterò in quello che mi chiederete nella mia cucina vi lascio in descrizione i link dei migliori video dell'anno ricordatevi che i miei video escano il martedì io vi aspetto come sempre e auguri di buone feste a tutti di vero cuore ciao